Eccoci al termine di una netta vittoria per 3-0 contro Alta Valconca, direi una partita che avete sempre condotto voi, bravi ad aprire i giochi ma soprattutto bravi a mantenere poi il vantaggio. Sì, era fondamentale fare questi tre punti, sicuramente è stata una partita non facile, lo sapevamo, una battaglia e insomma credo che alla fine è una vittoria che vale doppio. Magari non si è visto il bel gioco ma sono partite che contano i tre punti e basta insomma, quindi siamo contenti e siamo soddisfatti di questa vittoria. Tra l'altro c'è anche il tuo di nome tra coloro che hanno segnato, però più che il tuo gol e anche il primo che era importante vorrei parlare del secondo perché quanto è stato importante segnare all'inizio della ripresa quando magari poi l'Alta Valconca stava cercando di attaccare e trovare il pareggio? È stato fondamentale perché era un momento che stavano soffrendo e ci eravamo abbassati molto, loro stavano venendo fuori con queste palle buttate dentro l'aria, quindi insomma sicuramente è stata una doccia gelata per loro e siamo riusciti poi a non prendere gol fino alla fine, quindi è fondamentale questo e siamo molto contenti insomma, siamo soddisfatti. Questa vittoria la dedichiamo al nostro compagno Scarpa che sta affrontando un momento particolare e quindi li siamo vicini e questa vittoria la dedichiamo a lui.